finchè è scollinato appunto sul piano dei cerconi siamo rimasti per 1-2 secondi in silenzio che è assombrato un'eternità ma abbiamo visto appunto dalla cima della marmolada un fronte di ghiaccio barra detriti che scendero dalla parte alta fino a un bel pezzo sotto il piano dei cerconi a mantenervi questi modelli analitici quindi di matematico ma bene sono anche altri e per la però non ho capito dubbio di quali erano parzialmente in settembre erano ben importanti alla fine della famiglia in città con altri figli e come si avevano chiamato e poi non avevano più chiamato mi ricordo che siamo persone che incontrate